Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 Acconini buongiorno, è in corso una raccolta firme in Piazza Duomo Da parte di Italia del Rispetto per quanto concerne il tema della farmacia nel quartiere di San Vittore Come sta andando e che cosa vi raccontano i cittadini? Sì, buongiorno Dunque la raccolta firme sta proseguendo molto bene Eravamo partiti che in 4 giorni poco più 200 firme Oggi siamo arrivati a circa 350 firme Ricordo non solo in Piazza del Duomo ma anche nell'edicola in via Cattaneo Nella panetteria in via Turati E il distributore erga per andare a Tortona Oltre a questa necessità Alcuni cittadini nel banchetto, specialmente in Piazza del Duomo Hanno chiesto qual è la posizione dell'Italia del Rispetto In riferimento al referendum che la Lega sta proponendo sull'autonomia della regione Lombardia Mi viene da chiederle quindi se l'Italia del Rispetto vuole prendere posizione in tal merito Ma noi ci siamo riuniti lunedì sera E abbiamo deciso che è giusto dare una risposta E la nostra risposta è una totale condivisione a questo referendum È un po' come distaccarsi e allontanarsi da quelle che sono le opinioni del Partito Democratico Con le quali tra l'altro vi siete alleati in un certo senso all'ultimo ballottaggio qua a Boghera Con il candidato Perezzo Ghezzi A questo punto l'Italia del Rispetto abbandona di nuovo il PD È una bella domanda provocatoria, interessante Ma dico questo Vorrei dare ancora una volta questo tipo di spiegazione L'Italia del Rispetto è un movimento civico Che non si riconosce in nessuna ideologia partitica Ma collabora con le idee per il bene della città E noi stiamo per una politica non partitica ma programmatica Quindi quando il PD farà una cosa che è interessante a parte di Boghera Noi siamo con loro In questo caso la Lega Nord sta facendo una cosa interessante per la regione Lombardia E per Boghera noi siamo con loro Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività Grazie ai nostri banner e video Possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni Decine di migliaia di nuovi clienti E per venire incontro ad ogni tua esigenza Abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero O scrivi a spotchiocciolaocchiopavese.it Riparti con noi Riparti con Occhio Pavese